Ieri abbiamo montato queste gomme d'acqua, morbidissime, ma non quella mescola molto più morbida. Sono realizzati in quale il tratto della pista è più lento in quale è più lento. Sei contento? O meglio. Grande, bravo. Sono abbastanza contento. Non ti vedo. Non riuscivo a fare un giro perfetto, però... Però 7 decimi. Ho mangiato anche i 7 decimi va bene. Sono contento. Quarto turno fai la pista va bene. E' stato dei primi, si è stato l'unico che ha migliorato. Ho fatto il cibo all'aglioso. Sei stata brava oggi, eh? Stiamo aspettando il pilota per festeggiare queste qualifiche con un aperitivello. Intanto abbiamo iniziato. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao. Buongiorno. Che giorno è oggi? Che. Buongiorno. Qui sopra, buongiorno, buongiorno. Ah, buongiorno. Perchè? Sì, sì, sono così, insomma, poi siamo in tanti, è che ventiteresimo fa effetto anche se siamo in tanti. Dai ventiteresimo, questa volta ti va meglio. Ed eccoci qua, in macchina, a mangiare un pezzo di colomba in coda. Weekend darei un voto 6 meno. Il Mond, è vero, non l'avevo mai vista, però ieri ho fatto le buone qualifiche e mi aspettavo di fare una gara in salita. È stata una gara abbastanza oppacca e non mi sono piaciuto. Però sono stato in piedi, ho preso punti e speriamo di far meglio la prossima. Ciao, ciao.